Raga, l'Uber ci ha appena abbandonato, siamo in mezzo al nulla, sopra una montagna fa un freddo cane, io sono così, cioè, sto congelando anche le ciabatte Siamo in mezzo a una nuola e teoricamente io dovevo lanciarmi con Vlad ma alla fine ci ho ripensato perché ho mal di schiena, mi fa male il braccio Ma non so nemmeno come faccia a buttarsi lui in mezzo a questa nebbia, cioè non si vede assolutamente nulla e io penso proprio che non si possa fare Siamo in mezzo al nulla, non c'è nessuno, fa quanto paura tutto ciò Siamo riusciti a scendere che sono arrivati i ragazzi e ci hanno portato giù col furgoncino, guardate che spettacolo È una roba immensa, è proprio una spiaggia tipica proprio per surfare, guardate che meraviglia anche là in fondo Si intravedono un po' la scogliera che è pazzesca, la spiaggia è gigantesca, guardate che si stanno già propinquendo per surfare Noi teoricamente aspettiamo qui che si apra un po' il cielo che adesso è ancora un po' nuvoloso, che scappora il sole perché le condizioni devono essere perfette per poter volare E Vlad si lancerà, e Katy col cazzo, Katy ha detto col cazzo La babba che spende i soldi e poi non fa le cose Mi sono fatta male amore, c'è, però anche il ciabatto Mi sono fatta male il cervello quando è nato, ecco, mi sono fatta male Adesso andiamo a sentire com'è l'acqua raga Vedendo i surfisti che andrò tutto lì e non c'è molto caldo Se di solito è congelata l'acqua, lo voglio sapere oggi Tra l'altro guardate quanto è grande, l'acqua arriva fino a là È molto più fredda, è tipo ghiaccio, è tipo fare il bagno di un lago, male No, è cazzo, mille volte più fredda raga Sì amore, sarà a due gradi in meno, come no È arrivato il termometro umano Solo il termometro umano raga Raga è partito da là Giustamente noi dobbiamo partire dal punto più alto perché siamo bastardi Che caga Guardate che è sfigata Il nostro istruttore che ci porterà tutto il cuoello La sta muocchiando di brutto Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno Buongiorno, qua giornata meravigliosa Non c'è di lavarsi la faccia E fa il bagnetto in cucina Che meraviglia, che spettacolo C'è un bel brunch Scusate un po' freschina Poi ci prepariamo per fare l'escursione Andiamo a vedere le grotte E adesso pappa Che adesso non vuole? E quattro? Non mi conto Pappa stiamo facendo l'omelette Sto insegnando a velare l'omelette Ma non l'omelette normale L'omelette con le uova di quaglia Che non abbiamo mai mangiato nella nostra vita Con il bacon Un brin che sembra più burro che brin E' bellissimo Ed eccoci qua E queste Sono le mie fantastiche omelette raga Non devi spaccarle tutte Cioè erano così belle tante Bene raga Siamo arrivati nel punto di ritrovo Dove ci imbarcheranno Guardate che spettacolo Stiamo partendo Ovviamente siamo i primi Sbocchino facile per caso Sbocchino facile per caso Listo per un'avventura? Sì 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 Questo ragazzi è un elefante Che sta bevendo l'acqua Lo vedete? L'occhio Un famoso calaverenza Nuestro dumbo Nella roca Sì Un altro elefante Más pequeño Ma mi serve La cerveza Sì Ragazzi sto facendo il video con il cellulare di Vlad perché io ho la memoria piena Quindi se la qualità è differente, immaginate Si sta freschi qua dentro Guarda cosa dicevi Vieni mi amore, vieni Qui c'è tantissima gente, guardate quanti kayak Molto pericoloso E tantissima gente che va a vedere questa spiaggia perché è la più bella di tutte Guardate che meraviglia E' un sacco di gente veramente bellissima E' un capolavoro veramente E' un aperitivo di questa spiaggia meravigliosa C'è troppo vento raga oggi, è devastante, sono tutta negli occhi Volevo farvi leggere solo una cosa Ho trovato un menù italiano, cosa che di solito non c'è mai, mai possibile Ma la cosa meravigliosa è questa Bistecca, hamburger, salsiccia Salsicca Siamo arrivati nel punto dove forse salteremo Vi faccio vedere Questo è il paesaggio che stiamo vedendo davanti ai nostri occhi Siamo qua Guardate che meraviglia Quella è la spiaggia dove appunto siamo andati l'altro giorno Dove appunto scenderemo dopo Guardate che cosa meravigliosa che abbiamo davanti a noi Guardate la costa com'è fatta E' meravigliosa Sto cacando addosso Un altro video appunto non so se avevate visto ma non si vedeva nulla Era tutta nebbia, vi ricordate? Guardate adesso Com'è? Limpido Sto cacando addosso L'ho già detto? Alla fine sto partendo io, partiamo da qua Ok, ci siamo spostati perché il vento è migliore Vi lascio in eredità Snoopy Maya, Lancia, Hero Noi siamo con lui Hola Cosa vedi? Vi vanno a volare no? No Un po' di meno ma non so Sono mui Nelson ci accompagnerà in questa esperienza Lui ha fatto tanti campionati Anche a livello mondiale quindi Brecate per me Guardate che meraviglia Sarò seduta qua sotto E' presa Non sto per esplodere Per capire quanto stiamo Al massimo Cadi ma non esplodi Perché? Perché? Almo E' stato sbagliato Corri! Inoltre Ah! 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 Wow! It's so bello! Ah! Wow! Ah! Ah! Wow! Ah! 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 è bellissima è bellissima, non? è più alto e ora il corpo un po' più ora per la direzione per la direzione per la destra 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 è bellissima una cosa stupenda indescrivibile non, non, non è bellissima è bellissima una cosa stupenda indescrivibile non, non, non è molto difficile ma è di mare va di mare ma è di mare ma è di mare ma è di mare questa è come stare in barca è fabbico bellissimo raga è stupendio vedrano un po' di cibo e sono molto lontani sono belli altri siamo partiti in musica andiamo un po' di cibo è segura, no? è segura stava esperando lì e ora stiamo volando guarda lì ok 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 ora 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 sta girando sta girando qui bellissimo adesso tocca a Vladimir Vado a sperare no? sono viva raga è stato bellissimo Lo voglio rifare No, tocca a me adesso No, no, lo faccio io Bellissimo, bellissimo Veramente, grazie, veramente Bene amici, sono sopravvissuta È stata veramente una figata pazzesca Fatelo, anche se avete paura Io soffro di vertigini Ma devo dire che è stata benissimo Ovviamente fatelo con dei professionisti Lui gareggia per i campionati del mondo Quindi è super mega professionista Guardate qua l'acqua com'è Cioè questa spiaggia è una cosa In video non rende mai È veramente gigantesca È enorme È bellissima E dopo ci faremo una passeggiata appunto Lungo tutta la spiaggia Così vi faccio vedere bene E questo è l'ultimo giorno qua a Lagos Per cui poi farò il video Anche per Lisbona Io da là sopra vedevo dei puntini Dei puntini Stupendo E adesso niente Rimane Vlad Deve farlo anche lui Eh sì È stato lui che ha avuto l'idea Quindi lo deve fare anche lui Sì È stato lui che ha avuto l'idea È stato lui che ha avuto l'idea